Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi torno a parlare del Roleic, un attrezzo che ha prezzo per semplicità costruttiva, efficacia e velocità di impiego. Come già detto in un video precedente, questo attrezzo esegue la lavorazione tramite due dischi d'acciaio dentati verticali e una stella gommata orizzontale. Grazie alle immagini fornite da Paolo Pascualin di Tecnovite, oggi vi mostro il Roleic in versione ventrale bilaterale abbinato ad una falciatrice interfilare. Il cantiere preso in esame consente generalmente di procedere ad una velocità compresa tra 4 e 8 chilometri ora. L'abbinamento del Roleic con la falciatrice interfilare consente di gestire il suolo del vigneto in un unico passaggio, con notevoli vantaggi in termini di sostenibilità ambientale. Limitando il numero di passaggi nel vigneto abbiamo infatti minor consumi di energia, minore emissioni di gas serra e minor calpestamento del terreno. La lavorazione del sottofilare con il Roleic è molto efficiente e soprattutto non crea suola di lavorazione. Detto questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!